Il ricordo della tragica annata della campagna olearia del 2014 è per fortuna solo un brutto ricordo. Il 2015 ha portato il sereno tra gli addetti al settore che dicono di una campagna olearia davvero importante. Abbiamo fatto un piccolo sforzo per cercare di organizzare questo evento che riguarda una visita su tutto il territorio perché partiamo dall'oliveto per proseguire la visita in Frantoio, vedere quali sono tutte le varie fasi di lavorazione delle olive. Abbiamo un pochino anticipato quello che è l'evento di domenica prossima Frantoio Aperti. In questo contesto a Loretta Prutino il convegno e le visite guidate della filiera olearia hanno ribadito l'importanza volta alla promozione e alla salvaguardia del prezioso oro giallo attraverso le varietà di piante e di oli. Partiamo da una qualità eccellente che è quella dell'olio extravergine d'olivo della nostra regione. Riconosciuto in tutto il mondo siamo la quinta regione a livello italiano per quanto riguarda la produzione. Abbiamo un ottimo olio di qualità e dobbiamo migliorare la commercializzazione e la promozione del nostro prodotto anche attraverso i regimi di qualità e quindi le DOP. È una giornata importantissima per l'olio d'oliva ma soprattutto per le piante d'olivo dalle olive da cui si produce. Grazie a Dio ormai la produzione di olio per quanto riguarda la lavorazione ha raggiunto livelli importanti e conoscenza di tutti. Quello che bisogna riguardare adesso è mantenere e valorizzare le diverse cultivar di olivo di cui l'Italia ma anche l'Abruzzo soprattutto ne è ricca. Quindi una giornata importantissima soprattutto per i tecnici ma di sensibilizzazione un po' per tutti quelli che sono vicini all'agricoltura ma che comunque si interessano di paesaggio.